con i diritti umani. Oggi vedremo il sesto. Prima di tutto andiamo a guardare insieme il video. Grazie. Allora torniamo un attimino indietro e il diritto di oggi ci dice che abbiamo diritti ovunque andiamo. Non importa dove siamo. Noi siamo sempre portatori di diritti. Ricordatelo. Quindi hai diritti ovunque tu vada. Ovunque siate nel mondo quando crescerete andate. Spero tanto che andiate in giro per il mondo. Molti di voi già lo sognano. Ricordate che avete sempre gli stessi diritti ovunque. Quindi difendeteli questi diritti. Parlate neanche con i vostri genitori e scrivete le vostre riflessioni. Mi dispiace tanto di non essere a scuola e quindi fare una bella discussione come facciamo di solito. Comunque visto che voi siete abituati cercate di parlarne a casa e di capire cosa ne pensano i genitori, i fratelli, le sorelle di questo sesto diritto e poi scrivetelo sulla riflessione. Al prossimo diritto. Ciao.